Il mio calvario giudiziario al TG7 La gioia per la sentenza di assoluzione dopo 8 anni di processo e la mare in bocca per il fallimento della sua società, l'elettronica Gelbison Sanità, sostituzione TAC negli ospedali di Agropoli Scafati Roccadaspide a sorpresa Spunta anche la risonanza magnetica per il presidio di Polla Cozzolino, Bonavitacola, Piccarone, Strianesi a Palinuro per l'inaugurazione della rete regionale dei Burghi Abbandonati Viabilità, tamponamento sulla Cilentana l'automobilista dice andava a 50 intanto a Camerota iniziano i lavori sul Ciglioto Eventi ad Ascii a Gran Spettacolo delle tartarughe Caretta Caretta e rittantico protagonisti in Germania a Pisciotta lotta alle dipendenze Benvenuti e ben ritrovati nuovo appuntamento con le informazioni del TG7 in apertura ci occupiamo della vicenda giudiziaria di Filadelfio Cammarano imprenditore di Ceraso 8 anni fa per lui l'inizio di un calvario giudiziario nei giorni scorsi dal Tribunale di Vallo della Lucania è arrivata la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste è finito sotto processo per una frode fiscale di 650 milioni ecco nei giorni scorsi come dicevamo la sentenza di assoluzione Cammarano questa mattina ospite nei nostri studi ha espresso la gioia per questo momento ma soprattutto l'amaro in bocca perché nel frattempo la sua società che lavorava in ambito nazionale ed internazionale è fallita ascoltiamo allora un passaggio dell'intervento di Filadelfio Cammarano io l'ho accolta bene evidentemente ma me l'aspettavo tant'è che ho rinunciato alla prescrizione perché altrimenti questa sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste non si sarebbe pronunciata questo è un aspetto che voglio ah quindi il processo poteva andare in prescrizione e lei ha rinunciato alla prescrizione è voluto andare dritto fino in fondo e avere questa sentenza insomma sono stato non fortunato ho avuto giustizia ed è confermato anche dal fatto la mia convinzione è confermata dal fatto che il pubblico ministero cioè l'accusa ha chiesto la soluzione perché il fatto non sussiste quindi la procura che insomma otto anni fa la procura di Vallo ha avviato questa indagine ha aperto questa vicenda giudiziaria oggi ha chiesto la sua soluzione esatto e così su parere contro quindi a distanza di anni si è capovolta la situazione insomma sono cambiati anche gli attori alla procura di Vallo e alla Lucani evidentemente questo incide molto sulla interpretazione della giustizia diciamo gli addetti alla divulgazione delle informazioni sono stati indotti in errore perché questi 650 milioni vabbè avranno aggiunto qualche zero zero in più rispetto alla realtà alcuni, molti zero in più rispetto a quella che era l'ipotesi accusatoria quindi questi 650 milioni erano e sono una bufala giudiziaria voglio pensare che è stato un errore di battitura nel comunicato stampa della guardia di finanza di allora che ha fatto il comando provinciale ecco perché le indagini furono condotte dalla guardia di finanza e coordinate dalla procura di Vallo esatto lei ci sta raccontando ricostruendo anche con una certa serenità assolutamente sono serenissimo sono contento di aver perché la rabbia di un cittadino di un imprenditore è quando perché la giustizia non deve far paura almeno per le persone oneste il problema è quando uno ha paura pur essendo una persona onesta io credo che oggi a Vallo delle Lucania si può essere sereni se uno ha la coscienza al posto questa è la ma andrà avanti ora in un suo percorso giudiziario? non lo so questo valuteremo con gli avvocati il da farsi cosa si augura? no mi auguro e cosa si sente di dire a colleghi imprenditori che dovessero trovarsi nella sua medesima situazione? beh ce ne sono tanti tanti soprattutto anche nel Cilento abbiamo avuto delle efficiente diciamo simili simili questo deve far pensare insomma è che questo Cilento ha avuto qualche problema e credo che qualche problema ci sia ancora che vada risolto altrimenti altro che sviluppo di questo territorio il sistema Cilento io credo che c'è l'intervista integrale realizzata con fila Delfio Camarano ve la proporremo nella terza ed ultima parte del nostro telegiornale di oggi intanto altra cronaca arriva dal Vallo di Diano ore di paura e angoscia per una bambina di 5 anni a Sala Consilina la piccola è giunta al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla con ferite evidenti alla testa la bambina infatti era stata aggredita al capo da un pastore tedesco mentre si trovava a casa di un'amica circa 60 i punti di sutura per cercare di curare le profonde e importanti ferite riportate dalla bambina dopo il morso del cane ebbene i sanitari hanno curato la piccola visibilmente spaventata e dolorante la bambina si trova attualmente ricoverata nel reparto di pediatria del nosocomio Pollese resta da vedere perché il cane ha reagito ecco aggredendo la bambina intanto ci spostiamo al palinuro e voltiamo decisamente pagina perché presso l'antiquarium è stata ufficialmente presentata la rete regionale dei borghi abbandonati c'eravamo anche noi con il convegno di presentazione l'inaugurazione della mostra fotografica a case carute la rete regionale dei borghi abbandonati della campagna ha avviato le sue attività l'evento si è svolto presso l'antiquarium di palinuro un progetto di partenariato che vede cento la quale comune capofila e l'adesione di ben 14 comuni delle province di Avellino Benevento e Salerno tra le prime attività della rete regionale di borghi abbandonati rientra l'organizzazione della mostra fotografica itinerante dal nome affascinante case carute realizzata dalla fotografo Gianni Comunale inaugurata sabato scorso subito dopo il convegno di presentazione attraverso la quale sono state presentate e illustrate le principali specificità di interesse storico dei borghi della memoria della campagna questa occasione che mi è stata fornita è stata per me un dono grande un dono importante spero che le foto vi piacciono il progetto è stato allustrato in apertura dei lavori dall'architetto Emilio Bonomo che ha ricordato anche il compianto collega Donato Tartaglia che nel 2015 ha avviato il progetto della rete non a caso immaginiamo di partire dalle case carute nella mostra di Gianni Comunale dall'accezione negativa di questo termine tutti noi sappiamo la case carute è una causa pezza sostanzialmente ma vogliamo invece renderla un'occasione di riscatto per questi territori che lavorando insieme in sinergia potranno sicuramente essere avere una una nuova vita per cui i sindaci il ruolo dei sindaci degli amministratori è fondamentale in questo momento per poter diffondere all'interno dei propri territori socializzare questa idea che quello che c'è nei propri comuni è qualcosa di importante poi l'intervento del vice sindaco di Centola Silverio D'Angelo noi l'abbiamo sposata subito ma la cosa più bella è che l'hanno sposata subito altri 14 sindaci e non è facile combattere con i sindaci sul palco quindi il saluto del primo cittadino Carmelo Stanziola e di una delegazione degli amministratori degli altri comuni aderenti alla rete a seguire il contributo del vicepresidente del parco Cono Delia del presidente della provincia Michele Estrianese dell'europarlamentare Andrea Cozzolino del consigliere regionale Franco Picarone a chiudere i lavori il vicepresidente della regione Fulvio Bonavitacola ad animare il dibattito la musica del maestro Francesco Citera i balli in costume d'epoca dei bambini A fine serata poi la musica popolare dei Tarantanobes di Novivelia Il buffet dei prodotti del territorio preparato dall'associazione di San Severino con il vino di Mario Notaroberti Ascoltiamo allora le parole del sindaco di Centola Carmelo Stanziola e del presidente della provincia Castrianese la provincia non può che sostenerla dal punto di vista morale ma anche sostanziale se necessario se possibile è davvero bello dico io sapere dai ragionamenti che sono stati fatti prima che c'è ancora la possibilità di fare qualcosa per questi borghi c'è ancora la possibilità prima sentivo l'architetto che quando intervistava i cittadini gli abitanti dice ma che si può fare ebbene si può ancora fare qualcosa se si può fare qualcosa è proprio perché c'è una sinergia tra istituzioni c'è una sensibilità e sono d'accordo sul fatto che sia necessario coinvolgere anche i privati in iniziative di valorizzazione di ristrutturazione di valorizzazione di questi borghi Beh sindaco un bel momento territoriale istituzionale grande entusiasmo da questo progetto parte da Pallinuro ecco da Centola Pallinuro ma che si come dire arriverà a rete su altre aree territoriali Beh sicuramente dopo quattro anni di duro lavoro aver creduto in questa iniziativa che è partita nel 2015 mettendo insieme 14 realtà diversificate tra l'altro della regione Campania la provincia di Avellino Benevento Salerno che individuarono il sottoscritto e quindi il comune dicendo la comune capofila e stasera vedere il lavoro di questa prima iniziativa progettuale che è visto il finanziamento della regione Campania che colgo l'occasione di ringraziare è davvero una grande soddisfazione così come debbo riconoscere stasera di aver individuato questo momento istituzionale finalizzato al prosieguo perché stasera come ho detto è l'inizio del progetto non è la fine quindi stasera abbiamo attraverso questo lavoro fatto capire di che cosa noi che cosa abbiamo in mente dove intendiamo arrivare che può essere un discorso legato ad un turismo alternativo e complementare nel caso specifico e di specie del comune dicendo che ha la fortuna di avere il mare la costa ma che ha anche un interno ed in particolar modo oltre al centro storico dicendola il borgo medievale di San Severino potrebbe davvero dare quella risposta che spesso diciamo di ampliare la stagione turistica e penso che questo progetto ne abbia tutte le condizioni e stasera con la presenza della provincia con il presidente Stianese la regione Campania con il vice governatore e il presidente della commissione bilancio e l'europarlamentare Andrea Cozzolino penso che abbiamo colto nel segno tant'è che entrambe queste realtà istituzionali hanno manifestato piena disponibilità non solo a condividere l'idea ma anche ad impegnarsi in quelli che saranno le progettualità da mettere in gambo e quindi sostenere questo progetto che ripeto è un discorso concreto che può ampliare di fatto la stagione turistica bello ricordava anche il sindaco Carmelo Stanziola al termine della serata è arrivata ecco la voce della regione con il vicepresidente Fulvio Bonavitacolo e il consigliere Franco Picarone recuperare i borghi significa creare una occasione di risottività io il recupero del borghi lo vedo come un albergo di Fulso non come un museo da visitare il museo da visitare non erano visitari e visitatori poi qui dobbiamo portare la gente dalla campagna dall'Italia dal mondo un tentativo di mettere insieme molti comuni anche di collocazione territoriale diversa nel territorio Sannita Irpino e qui nel Cilento è una bella iniziativa perché la motivazione è comune e gli obiettivi possono essere comuni un contrasto all'abbandono delle zone interne valorizzare le nostre bellezze i nostri prodotti enogastronomici il nostro paesaggio la nostra qualità del buon vivere questo può creare un'attrattività come sistema territoriale naturalmente poi a questo bisogna aggiungere le infrastrutture i collegamenti la pubblicità che purtroppo nel nostro mondo ogni cosa buona deve essere conosciuta altrimenti lo sappiamo in pochi indimi però c'è una filiera istituzionale assolutamente positiva di grande collaborazione io sono fiducioso questo è un esempio di lavoro di collaborazione di cooperazione tra enti di diverso livello in questo caso c'è questa propensione dei comuni finalmente a fare rete e questo consente di fare delle cose buone c'è questa rete per i comuni abbandonati che consente di recuperare storie radici cultura e di fare un servizio alla conoscenza e al turismo e mi pare che lo si stia facendo migliore dei modi la regione Campania ha risposto finanziando il progetto e anche qualche opera materiale però nello stesso tempo la regione Campania guarda anche ai borghi abitati tant'è che noi abbiamo con la 7.6.1 intenzione di coprire tutto il finanziamento che significa posti di lavoro recupero di centro storico recupero di facciate e mi pare che è una grande risposta a molti comuni del Cilento questo a noi fa particolarmente piacere perché dobbiamo combattere lo spopolamento abbiamo anche lavorato in questi anni che ci hanno visto al governo della regione sulle infrastrutture adesso finalmente decolla anche il progetto aeroporto di Salerno ma non dimentichiamo le vie del mare non dimentichiamo l'alta velocità che si amplia quest'anno non dimentichiamo il grande piano per la viabilità provinciale abbiamo da lavorare tanto su questo terreno però mi pare che il segno sia di una regione considerata non solo nelle grandi città ma pure nelle periferie eppure nelle aree interne quindi il nostro concetto è un concetto globale crediamo che lo sviluppo non parta soltanto da Napoli Salerno e dai capiluogo lo sviluppo non può esservi in Campania senza valorizzare questi bellissimi luoghi beh intanto torniamo ad occuparci di viabilità e della Cilentana in modo particolare con il tamponamento che si è verificato questa mattina all'altezza della Diga Lento tra due utilitarie beh l'incidente è avvenuto intorno alle 10 e come vedete non sono mancati i disagi ma c'è la notizia nella notizia perché stando alle prime ricostruzioni forse a causare il tamponamento proprio il nuovo limite di velocità imposto dall'ANAS per effettuare i lavori ricordiamo si viaggia a 50 km orari perché uno degli autisti in modo particolare quello della Fiat Panda tamponata avrebbe più volte ribadito io ribadito io andavo a 50 andavo a 50 ebbene il 43enne a bordo di uno dei due veicoli è stato trasportato in ospedale per accertamenti fortunatamente però le sue condizioni non sono gravi dopo il sinistro notevoli disagi e la circolazione in particolare in direzione sud sul posto ai sanitari del 118 e carabinieri che hanno effettuato i relievi per verificare l'esatta dinamica del sinistro intanto sempre per quanto riguarda la viabilità buone notizie arrivano da Camerota perché questa mattina sono iniziati i lavori sulla strada provinciale 66 meglio conosciuta come Cioto ebbene però per consentire i lavori la strada è stata chiusa interdetta al traffico veicolare e l'arteria sarà riaperta non appena i lavori naturalmente saranno concolosi saranno interessate ben 17 aree lunghissimi tratti saranno riasfaltate interamente ringrazio il presidente della provincia strianese il dirigente iranese e tutti gli uffici provinciali dice il sindaco Mario Scarpitta che naturalmente si sono adoperati per consentire il rifacimento del manto stradale come vediamo davvero la strada era ridotta in condizioni preoccupanti e questo intervento era atteso da tempo stiamo lavorando a braccetto con la provincia aggiunge l'assessore Giovanni Saturno per consentire al popolo di Camerota in particolare di ricusati di poter usufruire di un'arteria dignitosa lasciamo la viabilità ci occupiamo di sanità buone notizie per le strutture del territorio anche per quanto riguarda l'ospedale di Agropoli perché saranno sostituite le TAC negli ospedali di Agropoli Scafati Roccadaspide e a sorpresa spunta anche una nuova risonanza magnetica per il presidio di Polla la differenza è solo nella tempistica il gruppo Boggia che segue i lavori a tempi strettissimi per le TAC così come concordato con il managgiamento dell'Asle di Salerno per la fine di luglio l'opera dovrà essere terminata diversi invece i tempi per la risonanza magnetica di Polla l'arrivo del nuovo macchinario è una buona notizia ma sarà consegnato solo per la fine di novembre ma non finisce qui perché l'Asle Salerno ha finalmente avviato la procedura anche per acquisire le apparecchiature necessarie al funzionamento delle sale operatorie questo anche per l'ospedale di Agropoli i lavori dei locali sono stati completati ed ora è necessario allestirli due quelle che entreranno in funzione ebbene dopo la sanità ci spostiamo sulle spiagge del Cilento per ammirare insieme lo spettacolo delle tartarughe caretta caretta dopo il falso allarme arrivato nei giorni scorsi da Camerota ecco una tartaruga ha nitificato sulla spiaggia di Ascea ma ci racconta tutto e ricostruisce quanto accaduto negli ultimi giorni Ernesto Rocco falso allarme a Camerota le tracce di caretta caretta segnalate sulla spiaggia di Cala d'Arconte non hanno avuto corrispondenza nella presenza di un nido probabile che la tartaruga avvistata nella notte tra sabato e domenica abbia fatto soltanto un primo tentativo di deporre le uova o sia stata disturbata da qualcosa e quindi sia andata via chissà che la caretta caretta non torni nelle prossime notti per provare di nuovo a scavare il suo nido intanto questa notte una tartaruga è stata avvistata ad Ascea in località scogliera i biologi del centro Anton Dorn e della EMPA l'associazione di volontariato per la protezione animali saranno sul posto per verificare la presenza delle uova Valentina Pica assessore al turismo del comune Asceota intanto ricorda chiunque si imbatta in tracce di tartaruga o in esemplari di tartaruga di restare a distanza di non puntare luci o altri segnali contro le caretta caretta che se si vedono disturbate chiaramente tornano in acqua e rinunciano a lasciare le proprie uova in un posto all'apparenza troppo frequentato il cilento sempre più si conferma nursery per le tartarughe caretta caretta nel 2018 sono nate ben 400 tartarughine da 5 nidi sul litorale di Monte Corice Pisciotta Palinuro e Ascea intanto da Ascea con l'assessore al turismo Valentina Pica arriva ecco una richiesta di aiuto aiutaci a proteggere le tartarughe marine ecco se vedi una tartaruga o delle tracce sulla spiaggia chiamaci reperibilità H24 c'è anche un numero di telefono 334 64 24 670 quindi l'amministrazione comunale di Ascea ecco chiede la collaborazione di tutti dopo il dopo l'episodio ecco dopo l'evento che si è verificato questa notte località scogliera nei pressi del Lido Brigantino con l'arrivo delle tartarughe intanto la musica con i rittantico la musica del Cilento gran protagonista in questi giorni Achille in Germania c'è anche un po' di Cilento quest'anno alla settimana di Kille in Germania uno dei più importanti eventi di vela del mondo che si svolge ogni anno fin dalla fine dell'Ottocento nella città del nord della Germania oltre alle gare di vela sono in programma infatti più di 2120 tra cui esibizioni di gruppi internazionali artisti con musica dal vivo e circa 300 concerti e gran protagonisti anche i ragazzi del ritte antico di Novivelia che hanno l'onore di rappresentare l'Italia grazie all'invito dell'associazione culturale di italiani nel mondo Dante Alighieri e che si esibiscono in numerosi concerti oltre che sul palco principale della città anche in numerose altre zone della stessa in queste immagini mentre vengono accolti a palazzo di città Achille la loro musica contagia tutti altra iniziativa pisciotta lotta alle dipendenze questo è il momento condiviso da alcuni adolescenti grazie all'impegno dell'imprenditore Carlo Sacchi ragazzi pensate un po' sono stati sottratti anche i cellulari ma vediamo no ai telefonini cellulari al gioco d'azzardo e alla droga sì ai corsi teatrali di autostima e autodifesa il bullismo a scuola e non solo tra i più giovani si combatte così creando il gruppo la socializzazione diretta e non virtuale il divertimento frammisto al relax che solo una vacanza sulle spiagge di un mare bellissimo può regalare ne è sicuro tanto da averci costruito sopra un progetto l'imprenditore Carlo Sacchi il progetto sociale varato a Pisciotta dall'Aspi Associazione Nazionale San Paolo Italia unico e pilota per tutta Italia voluto fortemente dal presidente di Pisciotta Carlo Sacchi si avvia a completamento vi hanno partecipato a più riprese all'incirca un centinaio di ragazzi alla guida spirituale Don Franco Giordano si sono affiancati un gruppo di operatori di grande capacità come il cabarettista Gino Cogliandro ex componente del gruppo teatrale I33 del drive-in di Ricci negli anni 80 l'istruttore di arti marziali Maglio Schiavo ed altri ancora lo scopo è fornire mezzi sufficienti ai ragazzi per non cadere nella trappola dell'alcolismo dell'uso di sostanze stupefacenti nella chiusura in se stessi facendo salire l'autostima e la considerazione di sé tutte cose estrettamente correlate tra loro per prima cosa ci facciamo consegnare telefonini cellulari di Chiara Teresa Iorio segretaria operativa del gruppo che serviranno solamente di sera per sentire i familiari durante il giorno si gioca ci si allena si mangia si sta insieme in spiaggia quindi virtuale non c'è nulla alla televisione preferiamo consegnare ai ragazzi un buon libro non solo estate per questo progetto un solo seme non può dare un raccolto copioso ecco perché già si programma per l'autunno e inverno con un occhio anche i corsi antiviolenza sulle donne su queste immagini ci formiamo linea alla regia c'è una brevissima pausa pubblicitaria restate con noi subito dopo torneremo ad occuparci del calvario giudiziario di Filadelfio Camarano a fra pochissimo a fra pochissimo a fra pochissimo Grazie a tutti.